In questo video trattiamo ancora la livella a bolla, questa volta utilizzando tre assi, quindi riusciremo a centrare la bolla al centro del nostro schermo, in più riusciremo a individuare l'orientamento, cosa non molto semplice perché dovremmo combinare giroscopio e accelerometro per sapere esattamente come siamo orientati. Questa funzione ovviamente viene registrata all'accensione, anche perché viene rilevato il movimento in modo relativo, quindi useremo delle librerie che si occuperanno della gestione di questi triangoli per semplificare il tutto. Iniziamo subito. Nell'ultimo video abbiamo realizzato una bolla elettronica con la MPU6050, vediamo una variazione che ci permette di avere anche l'orientamento, cosa che la scorsa volta non avevamo. Useremo sempre un layout grafico, quindi ho recuperato lo sketch dell'ultima volta che trovate sempre sotto GitHub, quindi se andate nel mio repository online andate a prendere il video 728, qui avete le slide e lo sketch di partenza, quindi apriamo questo sketch e lo modifichiamo. Nel frattempo ho fatto qualche ricerca e ho trovato una libreria che ci semplifica un po' la vita. Questa libreria è la MPU6050 Lite, la possiamo scaricare qui dal link che adesso poi copiamo e andiamo ad aggiungere lo sketch, facciamo download zip e la salviamo in modo da averla a portata di mano. Salvemo la nostra cartella, qui troviamo ben poche informazioni, ma il vantaggio di questa libreria è che ci dà già gli angoli, cosa che noi fa molto comodo per fare questo tipo di operazioni. Questo qui è il nostro sketch della scorsa volta, lo salviamo con un nome differente, facciamo save as e poi iniziamo a modificare. Installiamo la libreria, per installare la libreria andate sotto sketch, include library, add zip library, andate a cercare il file .zip che avete scaricato e lo aggiungete, quindi sotto document, questo è il file, facciamo choose e viene aggiunto, non lo aggiungo perché da me c'è già. Una volta che abbiamo preparato il setup, ci prepariamo a scrivere il codice. Una piccola nota sull'hardware, l'hardware, recupero le slide della volta scorsa, non è cambiato, quindi useremo sempre il nostro sensore MPU6050 della TDK, queste sono le slide che abbiamo visto l'altra volta, questo è il collegamento. Quindi accelerometro giroscopio, vi è i2C collegato ad Arduino e un display OLED 1306 da 128x64, che ci fa molto comodo, quindi 128x64. Aggiungeremo alla nostra rappresentazione grafica un pallino, questo pallino ci dirà la direzione in cui è girata la nostra scheda. Attenzione, quando la accenderemo farà un setup e cercherà di capire com'è e com'è orientata, quindi fa lo zero, quindi fate attenzione, eventualmente visualizzatelo sul display. Io vado via dritto e queste cose le lascio a voi. Una volta che avete fatto questo setup, poi registra l'orientamento e se ruotate, vedrete il pallino che ruoterà indicando come state girando. Questo tipo di rilevazione si può fare solo in modo relativo, perché altrimenti avrei bisogno di una bussola o qualcosa di simile per esempio avere la posizione rispetto al nord. Ma nella navigazione va bene, perché una volta che ho determinato da che parte è la mia punta, la mia prua, poi dopo quando ruoto è un movimento relativo, quindi va a misurare le accelerazioni e le sollecitazioni rilevate da accelerometro e giroscopio e mi dà l'angolo. Ok, la libreria per fortuna ci dà già in pasto gli angoli, dobbiamo fare ben poco. Per visualizzare la bolla centrale, abbiamo già visto l'altra volta, useremo il seno, il raggio della bolla è un raggio fittizio che è grande, più è grande il raggio e più sarà sensibile, perché la bolla è quasi piatta e quindi ovviamente questa basterà una piccola variazione per farla spostare. Se il raggio è piccolo, immaginate proprio l'oggetto fisico, è un pezzo di vetro con un'incavita sotto, se il raggio è piccolo farà fatica a spostarsi la bolla e quindi sarà meno precisa. Qui sotto vedete le due possibilità, quindi questa qui è più precisa, più pi, e questa qui invece è meno precisa, perché il raggio di curvatura interna è più piccolo, quindi più è largo. L'altra volta abbiamo messo circa 300 e andava bene, era abbastanza realistico. modificato alla piacere. Per calcolare le coordinate X e Y che vedo qui sopra, guardando dall'alto, devo andare a prendere gli angoli di inclinazione sulla direzione X e Y e proiettarli, quindi mi serve questa proiezione orizzontale, ve la faccio in verde, che ricavo facendo il raggio per il seno dell'angolo compreso, quindi su una parte e da quell'altra. Vediamo poi come calcolare la posizione del puntino. Qui facciamo un po' di pulizia, dunque abbiamo detto che tenevamo il link a GitHub e ve lo metto qui. Poi qui possiamo togliere queste livelli, teniamo solo il Lada Fruit e lo schermo ovviamente, semplifichiamo un attimo qui, poi dopo sistemiamo tutto, gli angoli ce li darà direttamente, l'inizializzazione vediamo poi come farla e poi vediamo qua nel nostro sketch principale. Allora, includiamo la libreria, abbiamo detto che si chiama MPU 6050 Lite, una volta che l'avete installata trovate anche gli esempi, quindi molti mi chiedono ma come fai a saperlo? Basta far così, file, example, vado a cercare la 6050 Lite, eccola qui, e ho per esempio Get Angle, quella che potrebbe servire a noi. L'apriamo, è un pochino più complicata se non sbaglio, però diciamo prendiamo le informazioni da qua. Come vedete c'è una parte di setup, adesso andiamo a sfruttarla. Dunque, intanto abbiamo l'inizializzazione dell'oggetto, eccola qui, copio e ce lo mettiamo qua. Nella parte di setup abbiamo qua il begin, va a vedere lo stato, poi stampa eventualmente alcune informazioni, possiamo farlo anche più semplice, ma intanto me lo copio, adesso vediamo come semplificare il tutto. Teniamo CMPU begin e lo incolliamo qua, quindi guarda se funziona, pulisce il display, poi attenzione qua a una parte in cui calcola gli offset, fa la calibrazione, questa qui ci serve, è utile perché, come dicevo, cerca di capire come è orientata e a zero tutti gli anni. Quindi copiamo questa zona qui, copia e incolla, dall'esempio al nostro codice. Ci servirà un timer non bloccante, l'abbiamo creato qua, un silent long t1, e qui chiama update per avere i dati e poi get angle x, y e z, quindi comodissimi, i tre angoli che poi useremo. Allora, questo mandiamolo un attimo in pensione, riapriamo qui. Dunque, abbiamo il nostro timer, che usevamo anche la volta scorsa, lo mettiamolo qui all'inizio, qui sopra, per fare l'aggiornamento. Io nel loop posso chiedere costantemente i dati al mio accelerometro, quindi faremo mpu.update, aperta e chiusa. E poi deciderò ogni tot di aggiornare le informazioni sul display. Questa parte qua la possiamo togliere perché ci viene molto più facile adesso, con questa libreria che semplifica un po' la vita. Il timer scatta ogni 100 millisecondi, abbiamo t1 uguale millis che me lo fa ripartire, pulisco il display, visualizzo le informazioni, qui disegnavamo informazioni. La x e la y. Allora, è tutto uguale, solo che qua avevamo delle variabili roll e pitch. Se volete tenere tutto uguale potete creare delle variabili float, roll e pitch, dove incollate dentro i valori, se no basta fare così, mpu.getanglex. Questo è uno dei due angoli, l'altro, suppongo il pitch, sia y. E questo dovrebbe funzionare tale quale ha prima, tutti e due col seno, perché abbiamo visto prima, abbiamo un angolo sulla direzione e l'angolo su quell'altra, con il seno lo proietto sulla superficie della nostra livella. Questo qui, 300, è l'angolo di curvatura della bolla, che dà la precisione, maggiore e è più precisa, e poi questo ci serve per centrare le coordinate al centro del nostro schermetto. Qui abbiamo il disegno del cerchio principale con il raggio 30, che è quello che centra tutto. Abbiamo un piccolo cerchietto da 6, che fa la calibrazione, che è centrale, e la nostra bolla è questa qua, fill, circle, x, y, raggio 3, quindi diametro 6, e a posto. Ora aggiungiamo l'orientamento, l'orientamento viene chiamato anche io, spero e immagino che si dica così, ho disinstallato l'inglese tempo fa, int px uguale, ci servono delle coordinate, px e py. Come calcoliamo le coordinate di questa bolla? È abbastanza semplice, si usa nel seno il coseno. Noi abbiamo l'angolo, è l'angolo z, che ci dice come siamo orientati. Immaginiamo che questo qui sia il nostro asse di riferimento, l'angolo z è questo qua, questo qui è il raggio a cui voglio disegnare la sfera. Se vista dall'altro la nostra bolla è fatta così, e poi c'è un bollino piccolo in mezzo, e voglio disegnare il puntino più o meno sulla circonferenza esterna, dovrò avere un raggio di almeno un 30. Mettiamolo proprio in corrispondenza su questa circonferenza. Quindi questo raggio qui sarà 30, devo calcolare la x e la y dell'eventuale punto. Per calcolare la x e la y, se ho il raggio e l'angolo, uso il seno e il coseno. Con il coseno faccio la proiezione del nostro raggio sulla verticale, quindi ho questa ombra, questa ombra orizzontale data dal coseno dell'angolo. L'ombra verticale che abbiamo qui è data dal seno dell'angolo, sempre moltiplicato per 30. Trasformiamolo in conteggi, quindi px e py, px, al massimo se poi qui sbagliate basta invertire, si va sempre a sentimento. Sin, come avete visto m più mi dà l'angolo in sessagesimali, quindi il seno e il coseno sono in radianti, operano in radianti, sin e cos che ci dà l'arduino. Torna comoda la funzione tu rad che abbiamo introdotto l'altra volta. Vedete che non abbiamo fatto lavoro per niente, tu rad aperta chiusa e qui dentro che cosa metteremo? m più punto get angle z aperta chiusa. Quindi questo da una parte, mi copio questo cartettino qui, lo mettiamo qui sotto, così abbiamo la x e la y, mettiamogli un punto e virgola. Questo qui è tutto in un angolo, noi dobbiamo centrarla in mezzo al nostro display. Attenzione, questo è solo il seno e il coseno, poi devo fare 30.0 è la distanza in cui mettiamo il punto per questa roba, e 30.0 per il coseno per avere l'altra coordinata. E poi dobbiamo centrarla usando sempre display width diviso 2 e height diviso 2. Questo è uno e questo è l'altro. Copio e lo metto qua. Ok, quindi dovremmo essere a posto, poi qui abbiamo act to angle, non ci serve, possiamo buttarlo via perché i conti ce li dà già alla libreria. Ok, abbiamo finito, vediamo se compila, se non abbiamo fatto errori e poi lo carichiamo sull'arduino. Ecco qui dopo aver caricato il nostro sketch, ecco la bolla in funzione. Come vedete è centrata, questa si autocentra, quindi prende la posizione iniziale. Vedete che funziona in modo fluido come la volta scorsa, quindi potete anche fare un gioco per cercare di centrare qualcosa. E in più, se ruoto, vedete il puntino che abbiamo creato, che resta sempre orientato dalla stessa parte, perché segna l'angolo di rotazione della nostra breadboard. Spero di avervi dato un'ottima idea per realizzare un sistema di navigazione, perché con questo sistema potete sapere da che parte siete girati, oltre che se state in equilibrio. Da qui tanti spunti per realizzare cose nuove. Lascio un po' a voi, magari ci metto anch'io, vediamo un po' cosa tirarne fuori. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo presto, ciao! Ciao!